Il futuro non crolla e l'Università di Camerino riparte dagli studenti e dal loro futuro. Lunedì 7 novembre, infatti, presso la biblioteca del campus universitario, si è tenuta la sessione di laurea per 22 studenti del corso di laurea triennale in informatica e del corso di laurea magistrale in computer science. Unicam ha fatto di tutto per recuperare la documentazione di segreteria e dare così la possibilità agli studenti di conseguire il titolo di studio dopo tutto l'impegno che hanno profuso per raggiungere questo importante traguardo. La ripresa dell'attività è un segnale fondamentale non solo per l'intera comunità universitaria, ha dichiarato il rettore Unicam Flavio Corradini, ma per l'intero territorio. È un forte segnale che manifesta la nostra volontà di andare. Vogliamo riprendere da dove ci siamo lasciati, mantenendo alta la sicurezza dei nostri studenti. Erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastro Vincenzo, il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Basco Errani, il sindaco di Camerino, Gianluca Pasqui e molte altre autorità civili, politiche e religiose. Il prossimo 10 novembre sarà la volta degli studenti della Scuola di Architettura e Design e l'11 della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute.